Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Tragico lutto per la musica italiana, la terribile notizia è arrivata pochi minuti fa. Il famoso e noto cantante purtroppo è morto, lasciando tutti senza parole. Addio a Pino D'Angio, il cantante è morto a 71 anni. La famiglia, sei stato un regalo, ora c'è il buio. L'artista, originario di Pompei, ha affrontato numerosi problemi di salute. Ottenuto il successo negli anni Ottanta con Ma che idea, era diventato famoso all'estero e pochi mesi fa ha partecipato a Sanremo. Pino D'Angio, nome d'arte di Giuseppe Chierchia, è morto all'età di 71 anni. Il cantautore di Pompei, salito alla ribalta negli anni Ottanta dopo il clamoroso successo del brano Ma che idea, e i giovani di tutta Italia, per una vita intera ha affrontato numerosi problemi di salute. Iniziati 21 anni fa, con la scoperta del primo tumore. Il suo pezzo, considerato uno dei primi brani rap in lingua italiana, è stato solo uno dei suoi grandi successi. D'Angio era una star anche all'estero, ha scritto canzoni per Mina, ha recitato per Tornatore, ha vinto un Grammy e oltre nove dischi d'oro. Ha lavorato inoltre come attore, doppiatore e produttore musicale.